In quello strano palazzo molto inquietante, ogni giorno passavano persone di tutti i tipi, di tutti i generi, sguardi buffi, sguardi spenti, sguardi squallidi. Eeeh, però, c'è una domanda importante da farsi, ed è questa qui. Vi aspettate di iscrivervi al canale? E dai, è gratis! Iscriviti! E che cavolo! Se il miglior gioco tu puoi trovare, e non sai dove cercare, c'è solo uno che ti può salvare. Ti suono i campi sedici di... Siamo tornati su That's Not My Neighbor! Guarda, c'ho ancora il mio gingillo dell'uomo magico! Benvenuto al tuo nuovo lavoro! Ecco, il mio lavoro è quello di vedere se ci sono persone strane. Nella lista di oggi, queste persone dovrebbero entrare nel mio palazzo, però tra di loro ci sono alcuni che sono SCP. Buon poveriggio! La signora Labrounis! Guarda che questo labbra, meno male che c'è un contenimento qui! Non si... si devono contenere! Vediamo intanto la signorina qua. Fa parte della DDD, disinfestazione, diavoli, demoni, quelli che sono loro. Notiamo che lei ha la carta che scade nel 1974, noi siamo nel 1955, quindi va bene per adesso questa cosa. Ma se dovessimo notare qualcosa di strano su di lei, beh dovrò chiamare... Pronto! Polizia, aiuto! Allora, intanto controlliamo se non è una lista. Beh, non è... la trovo subito ragazzi con queste labbra. Cioè, lei è sua sorella di fianco. Gloria Schmitt. Tedesca, un po' come me, sapete. Gloria Schmitt. Il nome sembra giusto? Fa parte dell'appartamento numero 2, il primo piano, no? Vedi? Gloria Schmitt. Il di numero 6, 9, 8, 5, 22, 34, 1150. 6, 9, 8, 5, 22, 3, 1, 3, 4, 1, 1150. Dovrebbe essere 3, 4, 1. Ok. Banchiere. Lei è una banchiere. Ha una faccia rotonda. Ha il doppio mento. Ha dei capelli corti e ha da un naso rotondo. Ok. Mi sembra... Mi sembra che... Che ci siamo. Bene. Quindi è tutto in ordine? Sì, mia signora banchiera. Vada, vada. Puoi aprire la porta per me? Ragazzi. No. È impossibile che al primo colpo veniamo fregati. Apriamo la porta e lasciamola entrare. Se abbiamo fatto sbagliato, prima o poi arriverà qua dietro e gli taglierà la testa. Funziona così sto gioco. Oh mamma. What is that? Ok. È un po' anomalo. Ha due nasi al posto degli occhi. Uguale proprio la foto. Antisgamo. No. Come il mio aspetto. Mamma mia che fatica. Quanti paio... Ci avrà 80 paio di fazzoletti questo quando gli becca il raffreddore? Maronne. Che li facciamo Giannino? Giannino, che dobbiamo fa? Che dobbiamo fa? Allarme! Apri! 118! Aprilo. Apriamolo. Adesso chiamiamola disinfestazione nasi. Gli infileranno una sonda sopra il naso. Un'apertura. Senza anestesia. Grande Bob. Protocollo completato. Guarda. È proprio marci sono. Proprio marci. Devono andare con le maschere antigas. Sono alla fine. Mi ricorda quando nel film IT c'era l'alieno, no? Arrivavano tutti attenti perché non si sa che virus abbiano nello... Moro è arrivata la sorellona. Cioè qua fanno la gara. Fanno la gara di chi ha più butulino sulle labbra. Lei fa parte del condominio. Anche se sembra più strana di quella ai due nasi. 1969. Ok. Ha una collana. Ha una collana. Nella lista l'avevo vista. Inconfondibile. Loist Stilinski. Stilista. Se non è fa la modella. Formosa. Brava. Stilinski. Ok. Sono una residente e sono venuta a visitare mia madre. Lei è al primo piano. No? È del famoso Roman Stilinski, no? Il regista, no? No, questi sono... Lei viene per la casa. Ha delle grandi labbre. Ha un neo. Ok, c'ha un neo. Cappelli corti e faccia rotonda. Beh, più o meno. Sì, corti. Ragazzi, mi sembra che abbiamo tutto. Controlliamo però. 8, 9, 4, 5, 6, 9, 7, 7, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 8, 9, 4, 5, 6, 9, 7, 2, 3, 5, 6. Mi pare di sì. Mi pare di sì. Cioè, io non posso controllare un numero per numero. Mi sembra tutto a posto, ragazzi. Mi sembra tutto a posto. Buon fatto! Un bacione anche a te. Puoi aprire la porta? È un po' di fretta la signora. È un po' strana questa fretta. Però dai, mi fido. Ma vuoi che mi vada male? Chiudi la porta! Perché l'altra volta li ho fatti entrare, eh L'altra volta mi sono dimenticato E uno è squisciato dentro come non so cosa Fammi tirare fuori il binocolo Fammi zoomare lì Zoomiamo Che cacchio è quello, bro? Sembra un rasta, sai Cioè, nel senso, i rasta vengono utilizzati Potrebbe essere un rasta pazzerello, no? Cosa è il mio terzo occhio? Cosa c'è di così strano? È una cosa molto normale tra noi alieni Venuti dallo spazio Avere un terzo occhio Emergenza! 3, 3, 1, 2, 3 Ale, ale, ale Dai, dai, venite rapidi che questo è un terzo occhio È un'emergenza Siamo in pericolo mortale Potrebbe farlo andare in giro per la casa Avete visto come Squish? È un serpente quello Ok, grazie Bob È un piacere averti qua Puoi continuare col lavoro Ah, ah no, ok, gli sta volando della fuligine sulle labbra Anche qua, tutti i labbroni oggi, oh Tutte le labbra del mondo, voglio dire Ele noise Schmetzmeer Tutti i nomi un po' così 1980 Ele noise Schmetzmeer D, D, D Perfetto 8, 4, 5, 3, 2, 9, 3, 4 Allora Lei è nella lista intanto? Non è nella lista! Eh no, no! Ma che mi fai? Che mi fai, Leo, no? Non è nella... Non sei nella lista? Questa è la mia... Ah, se l'era dimenticata Ok, ok, allora apposta D, D, D Bisogna controllare tutto! Baby, please, mi hai segnato di essere sempre attento Sono una modella Controlliamo se sei davvero una modella F1 del 0, 4 Quindi... Modella Ha un Neo Mamma mia, ma c'è una gemella! C'è Selene E Ele noise Sul destro Ok, è giusto Ok, l'IDD è giusto Destra Naso piccolo Magra Collo lungo E ha una gemella Potrei anche chiamare la gemella per chiedergli Sai che potremmo per sicurezza? No, ma mi sembra Il collo lungo c'ha tutto C'ha tutto Non serve... Ma non serve, dai! Secondo me può passare Sarà che mi sono fatto attontonire dalla sua bellezza? Quindi... Vai Eccellente! La porta Dai, dai, passa Mannaggia, sta qua Bene! Dai, ce l'abbiamo fatta Osco, bosco Quadrato pratico buono Speriamo buono, eh Occhi sbilenchi Jack de collo Lui non ha un collo C'ha un mento al posto del collo Albesti, uomo di pesca F0102 Sono residente Vengo per prendere... Faccio le scarpe Lui è il fratello Cioè, lui e il suo fratello Piskman Sono tutti strani Guarda, scusa Me lo ricordo, suo fratello 146512986354 Aspetta A parte che tu non ci sei Che cacchio vuoi? Non ci sei? Come? L'entrata? Eh, eh, sì Va tutto bene con la mia entry Aspetta, ce l'ha Ah, no, è vero, ce l'ha Ma gli manca il documento, bro Ce l'hai? Ma ti manca l'ID? Ah, sì, è vero Ho dimenticato Mamma mia, oggi tutti fanno gli ignorri Fa le scarpe Ha dei baffi Un crimson il mentone gigantone Aspetta, non è nella lista Questa cosa non gliel'abbiamo chiesta Non sei nella lista Come? Non sono nella lista perché aveva un'emergenza Eh, però così è facile Se non è nella lista Io che devo fare in sto caso? Nel dubbio no Cioè, noi tedeschi abbiamo detto Nel dubbio nein Nel dubbio nein Chiamo, faccio una chiamata a suo fratello Per essere sicuro 2668 Sei a casa Mamma mia, questo è stato bravo 2668 Questo è stato bravo Adesso sentiamo La chiamata al pubblico Gerry, l'accendiamo Dai Sono Robeschi Peachman Che è suo fratello Mio fratello non è a casa Ok Robeschi è ok Allora ci sta Ci sta Bravo Ma se mi hai fregato, guarda Vengo a cercare tuo fratello Lo sgozzo, guarda Chiudiamo Mamma mia, questo è un lavoro che mi fa Ciao Ha l'occhio sbilenco Ma magari è normale Sì Ha un sorriso veramente inquietante Sta donna Sto mostro Margaret Bubbles Margarota Margarona Bubbles Sono una residente dell'edificio Sono una badante O qualcosa del genere F203 Ha un occhio deviato Ok Ce l'ha sbilenchio Un grande sorriso Un naso rotondo Sembrava horror per il naso Ma aspetta Ma ha C'è una cosa che devo vedere Non ha Un neo Non ce l'ha il neo Qua nelle sue foto L'ha messo Ma qui non ce l'ha Non c'è scritto che ha un neo Quindi l'apparenza Non è un neo Come il neo Mamma mia Mamma mia Tiriamo fuori Quei ricci fissi Fa un cuore L'ho fregata Mamma mia Vedi i dettagli Il diavolo sta nei dettagli Il diavolo sta nei dettagli Per un piccolo dettaglio Mi hai preso Mi hai preso Emergenza 3 3 1 2 Demone davanti a me Non ho grazie Venite E questa qua è Mia spagnia Sapevo che c'era qualcosa che non andava Quel sorriso Quel mole Che detto sorriso Il mole Bravo Bob L'hai scrantumata sul muso L'hai sgrumata L'hai strupezata L'hai stre... Smeh Bene Ehi Bebe è arrivato Buon pomeriggio McLouis Ronald Oh Senza cappello qui Come mai non c'è il cappello Vabbè ci sta che non ha il cappello Nella carta d'identità McLouis Red Boy Nel 58 Gli scade Eh Siamo vicini E per un pelo vecchio gen Di 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 Du 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 Non sei nella lista bro Non sei nella lista Perché non sei nella lista Non sono nella lista perché dovevo andare in emergenza Tu hai una famiglia? Come faccio a crederti? Non ha neanche... No Anche l'aspetto Non ha il pizzetto Non ha il pizzetto bro Sgamatissimo Demone Schifoso Apparinse Cosa c'è che non va col mio aspetto? Non ha il pizzetto Guarda bene alle foto No lo vedo arrabbiato No 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 Bro 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 Cerca di fare il gnoni Vedi che è al pizzetto Mamma mia No 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 Non puoi entrare Non sei né nella lista Troppe incongruenze Nel dubbio 9 3 3 Quanto mi piace chiamare la disinfestazione Demone Sai Uno ti sta antipatico E così Disinfestazione Oh cavolo Mi ha esploso la webcam Telecamera di riserva Quando salta una Se ne trova sempre un'altra Porca zozza Popi popi È arrivato il pagliaccio Ragazzi voi mi avete detto Che questo gioco qui Che ti consiglia lui È meglio non giocarlo Mi avete detto che è un gioco Che mi scandalizzerà nel profondo Mi avete incuriosito Potrei anche cliccare e guardarlo A sto punto Oh cavolo Oh cavolo Ma è veramente inquietante Cacchio se è inquietante sto gioco Un piccolo gioco di dadi Con un clown Ho sognato questo clown Aiuto A sto punto lo guardo due secondi Se non è troppo horror Al massimo censuro Ma Mamma mia Già al menu Aiuto Game over Bam Ok Sì è tipo una roulette russa Con un clown No grazie La giornata può continuare In modo un po' migliore Ogni notte Intorno al mondo Un sacco di persone Sognano dei clown Quindi me l'ha lasciato così Come bigliettino in più Così quando ho voglia di incubi Lo prendo Lo guardo Salve Salve Lui è sempre molto serio Allora le sopracciglia Forse sono troppo grandi Nella lista non c'è nemmeno Quindi intanto li diciamo Sei nella lista Come non sono nella lista Blah 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 Deve esserci un errore Io dovrei essere nella lista E già qui Mi caschi Guarda la lista di nuovo Ho già guardato bro Non sei nella lista Poi un'altra cosa strana È che lui Mi pare le sopracciglia Ce le aveva più piccole No ce le ha giuste Fisico Non sei nella lista bro Nel dubbio No Non era nella lista Asta la vista Se non sei nella lista Asta la vista Mi avete preso perfesso Hai contattato la DDD Eccomi qua Let's go Ah Let's go Let's go Let's go Ah Ok E questo Buon pomeriggio Agnus Ciprani Della DDD 5650 68 Lui è nella lista Ma gli manca Gli manca l'altro L'entry request Non ce l'hai? Oh scusa ma sono dimenticata Ok Agnus Ciprianni Il nostro amico italiano Tutto incibriato F0103 Gli zeri sono Combaciano Ok 68 Mamma mia Quanto inquietante il suo sorriso Non lo farà entrare per quello Collo lungo Ha un cappello Ha dei baffetti Ha degli occhi piccoli È tutto a posto È tutto in ordine Purtroppo Quel solito Gabby Che non mi lascia mai passare È il lattaio Salve Non lo vedo molto convinto Presidente Il lattaio Ha molte occhiaie Più del solito Lavorato tardi Eh Naso lungo Occhi stanchi Mento corto Ha un cappello Cappelli corti Francis Mosses Solo per sicurezza Chiamo il suo appartamento 4 1 Giusto così Cosa vuoi che succeda Francis Secchiamo il tuo appartamento Giusto così Giusto per controllare Se non risponde nessuno Ok Francis Abbiamo capito Francis Ecco Ballare Stavo scherzando La porta Però è molto C'è voglioso di entrare Anche troppo È strano di suo Ha sbattuto la testa da piccolo Come dicono No Ha sbattuto la testa Uguali Ma questo qua ce la fanno Farlo entrare normale Prima mi entri con due nasi Poi è un incidente mortale Sì non mi risponde neanche Allarme Questo è veramente Il colmo È il colmo Dai per favore Lisa Oh Grazie al cielo Avrò gli incubi stanotte Stiamo andando bene Altre stranezze Dai avanti la prossima Che oggi sono in vena Arriva Oh Ma è Era già entrato Agnus Cipreanni Non è possibile che sia lui No adesso chiamo Adesso chiamo Era entrato due minuti fa 5 5 1 3 5 5 Sei a casa Adesso deve essere a casa Cioè l'ho visto entrare Non uscire Eh vedi È entrato prima Cacchio Ora facciamolo arrabbiare Diciamoli tutto sbagliato Il mio ID Cosa c'è che non va Però non è Non è lui Ci ha provato Gli abbiamo beccati tutti i demoni Gli abbiamo beccati tutti È fantastica questa cosa Oh mamma Cioè devi Se hai un vuoto di memoria qua Sei il froguru Ma possiamo andare avanti all'infinito Eh se non perdiamo Però Eh io voglio Oh Un po' zombie Però è zombie Di suo Roman Stilinski E praticamente lui Fa parte Cioè fa robe horror Roman Stilinski Ha una cicatrice Ma è proprio un Frankenstein Big nose Long face Una sopracciglia E basta Ok Roman Frido Frado Ha un cappello Tutto in regola Veramente perché mi fa inquietudine Ha un'aurea Il suo stand è qualcosa di strano È stand lì Sono un contabile Poi lui non è entrato Ci può stare Ci può stare Oh tutto in ordine Sembra di sì Sembra di sì No scusa Spaiato L'abitudine L'abitudine Oh Ho vinto Ho vinto Non ha perso Ha ucciso un vicino Purtroppo Però non ho fatto Ho preso un A Ragazzi Ho preso una cacchio di A Abbiamo vinto Senza morire Niente demoni Da dietro Niente Vabbè Facciamo un attimino Un'altra play Veloce Voglio vedere Se ci capita qualcuno Perché mi è rimasta Vedi Le cose che abbiamo preso Mi sono rimaste Il clown Vedi Me l'ha lasciato sempre lì Quindi ci sono elementi Che rimangono Nel gioco Ora li faccio entrare tutti Facciamo la challenge Li faccio entrare tutti Finché non muoio Voglio vedere che succede Ok Chiudiamo Ok Vai 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 Entra tutti Entra tutti Quanto tempo passerà Prima che crepo Guarda guarda Guardala Entra Entra Oh porco cane Sì Bene È la signora di prima Con tutta la faccia strafatta Ok Adesso la challenge così Non faccio entrare i demoni Quelli palesi Ma tutti gli altri Li faccio entrare Li guardo solo dall'aspetto Ok Perfetto Grazie Anche tu sei un'anomalia Comunque Fattelo dire Fratello Continuiamo col lavoro Andiamo al prossimo È anche nella lista Ci sta Sarà sicuramente Quella non Secondo me è lei Secondo me è lei Che era quella strana Della famiglia Eh Non ha gemelle Non è quella quelle gemelle Lei Questa è quella strana O l'altra era quella strana Aaaaa Nel dubbio comunque devo Chiamare È lei quella strana Della famiglia Eh sì Eh sì Via Via La spazzatura Col camion dei rifiuti Schlaf Sta michelle unziger Wannabee Ma Wannabee cosa Oh Non muoio Ah No No Questa qua è quella lì Però vedi che il labbro Non è abbastanza labbroso Nove sono le tue big labbra Erano molto più grandi Guarda Tutta la faccia Ma va a far un bagno Va Ecco Non morirò quest'oggi Vedi Non mi serve neanche controllare Sono intanto totalmente bravo Mi basta una rapida occhiata Ti inquadro Stac Questa è la Casey Neistat Vediamo Casey Casey Aspetta So che devi fare un vlog Ma aspetta Sì Agli occhiali E il naso grosso E i capelli corti E una testa piccola È tutto a posto Però per sicurezza Gli dico dell'ID Ma puoi entrare Ma va banane Era lui Era lui palese Era lui palese Era lui palese Ah Mamma mia che paura Era lui Era lui Chi era Fammi vedere se era lui Che paura Non me l'aspettavo così Ne ho presi 4 e 2 Quindi ce n'era un altro Probabilmente lui è uno di quelli prima all'inizio Però sembra un A Cioè cos'è? Gli faccio entrare un A Vabbè L'importante è vincere ragazzi Va bene È stato bello riprovare questo strano gioco Ce ne sono altri veramente strani A volte ne arrivano proprio Con la faccia meno mata Tipo questo Magari ci ritorneremo Volete ancora un altro episodio Proviamo un'ultima run Epica Dove scopriamo gli ultimi infami Fatelo sapere con un sacco di like Io vi ringrazio Il link del fumetto in descrizione Noi ci vediamo alla prossima Ciao